La giornata storica per il calcio Catania, ma per la città di Catania, avere il presidente Giancarlo Abete qui da noi in visita a Torre del Grifo, sicuramente un evento importante. In un'occasione come quella della presentazione di un master universitario, che prospettive può dare un master di questa tipologia prima di entrare nel dettaglio e parlare ovviamente della situazione calcistica a Catania? Allo sport ha una dimensione valoriale fondamentale, ma anche forti contenuti a livello economico, occupazionale, quindi è giusto che ci sia una crescita professionale per coloro i quali vogliono poi operare all'interno del mondo sportivo. Questo master dà questa opportunità di approfondimento e peraltro la storia del calcio Catania, gli investimenti effettuati, l'attenzione ai bilanci, la logica di riuscire a coniugare la dimensione sportiva con la dimensione economica, costituiscono un terreno fertile all'interno del quale comprendere come vanno gestite le società di calcio. Oggi soprattutto si è parlato di etica nello sport, nel calcio in particolare e abbiamo colto dei concetti fondamentali, grande insegnamento anche dal punto di vista umano, non soltanto sportivo, a tutti i giovani ma a chiunque, perché l'etica forse si è perso un po' di vista il concetto e il significato reale di questa parola, vista dal punto di vista sportivo ne acquista sicuramente uno in più. Sicuramente ne acquista di più, l'etica è fondamentale per lo sviluppo o la crescita di ogni società, per una dimensione di coinvolgimento delle persone in un progetto che sia un progetto di un futuro condiviso, ma questa dimensione che vale a tutti i livelli vale ancora di più per il sistema sportivo. Il sistema sportivo ha l'etica come precondizione, non si può pensare di operare all'interno del mondo dello sport, all'interno del mondo del calcio senza un forte riferimento ai valori etici. Dato che siamo in una società complessa dobbiamo aumentare gli sforzi perché ci siano dei comportamenti coerenti che dia nel senso che lo sport riesce a salvaguardare i suoi valori rispetto a tante difficoltà e anche a tanti attacchi che alcune volte arrivano anche da parte della malavita organizzata. Per noi è stato assolutamente un privilegio averlo qui ospiti a Torre del Grifo, ha visitato il centro. Cosa rappresenta dal punto di vista economico non solo una struttura come Torre del Grifo per una città come Catania, per una società di calcio come il calcio Catania e cosa potrebbe significare per qualsiasi società? È bello vedere questo centro qui a Catania che è veramente un centro di primissimo livello per come è stato strutturato, per le risposte che dà non soltanto alle esigenze della società ma di tutto il territorio perché ha un'apertura verso il territorio, perché è una dimensione di punto di riferimento di tutta una comunità. L'auspicio è di vedere questi centri anche in altre società che magari hanno strutture storicamente più consolidate e tante volte non si riescono a dare le giuste priorità. Questa è stata una priorità ben portata avanti da parte della società calcio Catania perché si investe nel futuro, si investe sui giovani, si investe sulle strutture, si investe sulla dimensione sportiva e poi nel calcio si può vincere o perdere una partita, c'è il campionato che va meglio e quello che va peggio però se ci sono solide e bassi si va avanti, se invece si costruisce sulla sabbia e non sulla roccia non si va avanti. Parlando di costruzione, lei ha visitato il centro sportivo così come è strutturato, con le varie zone riguardanti gli alberghi. Secondo lei, Presidente Abete, è possibile ospitare anche eventi nazionali in ambito federale in una struttura come quella di Torre del Grifo? Senz'altro, il centro è assolutamente all'altezza, quindi si tratta soltanto poi di fare una corretta programmazione, di individuare quali possono essere questi eventi, però è chiaro che con un centro di questo genere si può ospitare qualunque tipo di evento. Parlando della nostra società, cosa rappresenta il Catania in questo momento a livello calcistico in ambito nazionale? Rappresenta la dimensione di una società che, come ho ricordato, riesce a coniugare l'aspetto del risultato sportivo con l'aspetto della programmazione e dell'attenzione ai bilanci. E questo è tanto più difficile, lo sappiamo, per storia, per tradizione, nelle realtà meridionali, insolari, dove tante volte la grande passione dei tifosi determina delle gestioni che non sono oculate. Oggi avere una gestione oculata è una necessità, è una necessità per progettare il futuro. E questo è quello che la società sta facendo, ha fatto, continuerà senz'altro a fare, ci sono nuovi programmi che sono stati rappresentati anche da parte di Pietro Lomonaco, del Presidente Bulvirenti, si lavora per il futuro e quando si lavora per il futuro si lavora per il territorio, perché avere una città che operi con una squadra di calcio, che ha una sua dimensione di continuità, come ormai è da parecchi anni in Serie A, significa anche dare valenza e riconoscibilità al territorio. Partendo da questi presupposti, dai complimenti, ritengo sinceri, nei confronti della società a calcio Catania, ritiene possibile immaginare di vedere presto la nazionale italiana qui a Catania? Sì, è possibile, naturalmente c'è tutta la volontà di farlo. Noi abbiamo in Italia ancora un numero molto limitato di stadi che sono fruibili per gli eventi ufficiali. Dato che la nazionale fa poche partite e la gran parte delle partite che fa sono partite ufficiali di qualificazione alle fasi finali degli europei e dei mondiali, nel momento in cui lo stadio non ha questa possibilità, ovviamente si restringono le opportunità. Parlavamo di stadio, quindi mi ha dato l'assist il Presidente Pulvidenti, soprattutto negli ultimi giorni, ma anche già da un po' di tempo, così come l'amministratore delegato del Catania e Pietro Lomonaco, hanno parlato del prossimo obiettivo del Catania, che è quello della costruzione del nuovo stadio. Sì, è un'ottima iniziativa e naturalmente quello che sta facendo la Federazione è di favorire il fatto che il disegno di legge sugli stati possa arrivare finalmente a compimento. Noi abbiamo un disegno di legge sugli stati che è stato approvato da uno dei rami del Parlamento, che si è fermato all'altro ramo del Parlamento e l'approvazione di questo disegno di legge sugli stati che a mio avviso darà poi ulteriore slancio alle società per poter investire in nuove infrastrutture. L'ultima domanda per smorzare un po' i toni. Cosa pensa Giancarlo Albetta del Nino Pulvidenti uomo e lo stesso di casi ovviamente di Pietro Lomonaco uomo, perché lo conosciamo operativamente, sembra un superman. Beh, si completano, nel senso che fanno una coppia vincente, ma questo non lo dico io, lo dico noi i risultati, lo dice il fatto che la società è presente, presente in tutte le occasioni, sulle iniziative, sui progetti per la città, che ha creato un corretto rapporto con il territorio, riuscendo a far comprendere le priorità date dal fatto di essere attenti ai bilanci, di poter investire e quindi facendo sì che la naturale aspettativa che ha ogni tifoso, che è quello di migliorare sempre i risultati della propria squadra, costituisca uno stimolo, ma non un vincolo, che poi al limite potrebbe soltanto portare a dei rischi per un club. Il Catania ha vissuto grandi momenti, come li sta vivendo adesso, però ha vissuto anche momenti in cui si è capita la necessità di essere attenti ai bilanci, alla programmazione, alla gestione, al fatto di rimanere in situazioni compatibili. E questo è il grande insegnamento di Pulvirenti e di Lomonaco, anche nei confronti di tanti altri club di Serie A, che si può fare bene e si possono avere i bilanci in ordine. Si può anche costruire il futuro, come con il progetto del centro sportivo.